Per prima di iniziare il video, ti ricordo di premere il tasto iscriviti e lasciare un mi piace, grazie. Enrico Mentana fa coppia con la nota giornalista Francesca Fagnani ormai dal 2013. Nonostante la differenza di età, i due sembrano essere ancora molto affiatati, tanto che nelle ultime ore stanno circolando delle voci clamorose sul loro conto. In particolare, si mormora di una presunta gravidanza della Francesca Fagnani. Se confermata, questa sarebbe la sua prima esperienza di maternità. Tuttavia, per il momento, si tratta solo di voci e speculazioni sulle quali bisogna fare chiarezza. In un'intervista rilasciata poche settimane fa durante il programma televisivo Porta a Porta, la Fagnani ha affermato chiaramente di non considerare la maternità un destino obbligato per le donne e di non desiderare figli. Quindi, la domanda sorge spontanea. Cosa è cambiato in così poco tempo? Questa improvvisa inversione di tendenza potrebbe indicare un cambiamento di prospettiva, da parte della giornalista o potrebbe essere il risultato di una semplice speculazione mediatica priva di fondamento. Tuttavia, finché non verrà fornita una conferma ufficiale da parte della diretta interessata o del suo entourage, queste voci rimarranno mere supposizioni. Francesca Fagnani è conosciuta per la sua professionalità, il suo talento e la sua intelligenza, qualità che l'hanno resa un volto amato della televisione italiana. Dopo il successo ottenuto come co-conduttrice di Sanremo e con il suo programma di interviste belve, la Fagnani sembra avere tutte le carte in regola per affrontare una nuova fase della sua vita, che sia essa legata alla maternità o meno. Restiamo dunque in attesa di ulteriori sviluppi e, nel frattempo, continuiamo ad apprezzare il lavoro della Fagnani e a seguirne con interesse la sua carriera professionale e personale.